le avventure di pinocchio di carlo colloti letto da libri in pillole capitolo 12 il burattinaio mangia fuoco regala cinque monete d'oro a pinocchio perché le porti al suo babbo geppetto e pinocchio invece si lascia abbindolare dalla volpe e dal gatto e se ne va con loro il giorno di poi mangia fuoco chiamò in disparte pinocchio e gli domandò come si chiama tuo padre geppetto e che mestiere fa il povero guadagna molto guadagna tanto quanto ci vuole per non aver mai un centesimo in tasca si figuri che per comprarmi l'abecedario della scuola dove vendere l'unica casacca che aveva addosso una casacca che fra toppe e rimendi era tutta una piaga povero diavolo mi fa quasi compassione eccoti qui cinque monete d'oro va subito a portargliele e salutalo tanto da parte mia pinocchio come è facile immaginarselo ringraziò ringraziò mille volte il burattinaio abbracciò a uno a uno tutti i burattini della compagnia anche i giandarmi e fuori di seda la contentezza si mise in viaggio per ritornarsene a casa sua ma non aveva ancora fatto mezzo chilometro che incontrò per strada una volpe zoppa da un piede e un gatto cieco da tutte e due gli occhi che se ne andavano là là aiutandosi fra di loro da buoni compagni di sventura la volpe che era zoppa camminava appoggiandosi al gatto e il gatto che era cieco si lasciava guidare dalla volpe buongiorno finocchio gli disse la volpe salutandolo garbatamente com'è che sa il mio nome domandò il burattino conosco bene il tuo babbo e dove l'ha veduto l'ho veduto ieri sera sulla porta di casa sua e che cosa faceva era in maniche di camicia e tremava dal freddo povero babbo ma se dio vole da oggi in poi non tremerà più perché perché io sono diventato un gran signore un gran signore tu disse la volpe e cominciò a ridere di un riso sguaiato e canzonatore e il gatto rideva anche lui ma per non darlo a vedere si pettinava ai baffi con le lampe davanti c'è poco da ridere gridò pinocchio impermalito mi dispiace davvero di farvi venire l'acquolina in bocca ma queste qui se ve ne intendete sono cinque bellissime monete d'oro e tirò fuori le monete avute in regalo da mangiafuoco al simpatico suono di quelle monete la volpe per un moto involontario allungò la gamba che pareva rattrappita e il gatto spalancò tutte e due gli occhi che parvero due lanterne verdi ma poi li richiuse subito tant'è vero che pinocchio non si accorse di nulla e ora gli domandò la volpe che cosa vuoi farne di code ste monete prima di tutto rispose il burattino voglio comprare per il mio babbo una bella casacca nuova tutta d'oro e d'argento coi bottoni di brillanti e poi voglio comprare un abecedario per me per te davvero perché voglio andare a scuola e mettermi a studiare a buono guardami disse la volpe per la passione sciocca di studiare ho perduto una gamba guarda me disse il gatto per la passione sciocca di studiare ho perduto la vista di tutti e due gli occhi in quel mentre un merlo bianco che se ne stava appollaiato sulla siepe della strada fece il solito verso e disse pinocchio non da retta ai consigli dei cattivi compagni se no te ne pentirai povero merlo non l'avesse mai detto il gatto spiccando un gran salto gli si avventò addosso e senza dargli nemmeno il tempo di dire oi se lo mangiò in un boccone con le penne e tutto mangiato che l'ebbe ripulitosi la bocca chiuse gli occhi da capo e ricominciò a fare il cieco come prima povero merlo disse pinocchio al gatto perché l'hai trattato così male ho fatto per dargli una lezione così un'altra volta imparerà a non metter bocca nei discorsi degli altri erano giunti più che a mezza strada quando la volpe fermandosi di punto in bianco disse al burattino vuoi tu raddoppiare le sue monete d'oro cioè vuoi tu di cinque miserabili zecchini farne cento mille du mila magari e la maniera la maniera è facilissima invece di tornartene a casa tua dovresti venire con noi e dove mi volete condurre nel paese dei barbagianni pinocchio ci pensò un poco e poi disse risolutamente no non ci voglio venire oramai sono vicino a casa e voglio andarmene a casa dove c'è il mio babbo che mi aspetta chi lo sa povero vecchio quanto ha sospirato ieri a non vedermi tornare purtroppo io sono stato un figliolo cattivo il grillo parlante aveva ragione quando diceva i ragazzi disobbedienti non possono aver bene in questo mondo ed io l'ho provata a mie spese perché mi sono capitate molte disgrazie e anche ieri sera in casa di mangiafuoco ho corso pericolo mi viene i bordoni soltanto a pensarci dunque disse la volpe vuoi proprio andare a casa tua e allora va pure e tanto peggio per te tanto peggio per te ripete il gatto pensaci bene pinocchio perché tu dai un calcio alla fortuna alla fortuna ripete il gatto i tuoi cinque zecchini dall'oggi al domani sarebbero diventati duemila duemila ripete il gatto ma com'è mai possibile che diventino tanti domandò pinocchio restando a bocca aperta dallo stupore te lo spiego subito disse la volpe bisogna sapere che nel paese dei barbagianni c'è un campo benedetto chiamato da tutti il campo dei miracoli tu fai in questo campo una piccola buca e ci metti dentro per esempio uno zecchino d'oro poi ricopri la buca con un po di terra l'annaffi con due secchie d'acqua ci getti sopra una presa di sale e la sera te ne vai tranquillamente a letto intanto durante la notte lo zecchino germoglia e fiorisce e la mattina dopo di levata ritornando nel campo che cosa trovi trovi un bell'albero carico di tanti zecchini d'oro quanti chicchi di grano può avere una bella spiga nel mese di giugno sicché dunque disse pinocchio sempre più svalordito se io sotterrasse in quel campo i miei cinque zecchini la mattina dopo quanti zecchini vi troverei è un conto facinissimo rispose la volpe un conto che puoi farlo sulla punta delle dita poni che ogni zecchino ti faccia un grappolo di cinquecento zecchini moltiplica il cinquecento per cinque e la mattina dopo trovi in tasca duemila e cinquecento zecchini lampanti e sonanti oh che bella cosa gridò pinocchio ballando dall'allegrezza appena che questi zecchini li avrò raccolti ne prenderò per me duemila e gli altri cinquecento di più li darò il regalo a voi altri due un regalo a noi gridò la volpe sdegnandosi e chiamandosi offesa dio se ne liberi te ne liberi ripete il gatto noi riprese la volpe non lavoriamo per il vile interesse noi lavoriamo per arricchire gli altri gli altri ripete il gatto che brave persone pensò dentro di sé pinocchio e dimenticandosi lì sul tamburo del suo babbo della casacca nuova dell'abbecedario e di tutti i buoni proponimenti fatti disse alla volpe al gatto andiamo subito io vengo con voi grazie a tutti